Walter e Anna Maria Donna Gemma di Vicenza amavano passeggiare nelle contrade della Valle del Chiampo fino alla Valle Eugra. Ora che non possono più farlo hanno voluto ricreare i luoghi tanto amati nel loro presepi. Hanno utilizzato molti dei sassolini raccolti nelle diverse località. Una personalissima strada dei presepi tra fantasia e ricordi che racconta per metafore come la natività viene vissuta nelle case.